Si sono sommate le cose, la grande pioggia della settimana scorsa con un vento fortissimo, la grandinata di lunedì sera che aveva già fatto dei danni e poi ieri la tromba d'aria veramente forte, mai vista una cosa del genere qua. Una serie di eventi climatici estremi che in poco meno di tre settimane hanno messo in ginocchio il territorio di Farra di Soligo. Nella serata di giovedì un ubifragio accompagnato da forti raffiche di vento ha colpito diverse zone del territorio comunale da via San Giorgio a via Santiziano, qui danningente al maneggio Tarvisium Stella dove in pochi minuti si è scatenato il panico tra i dipendenti e gli allievi che stavano facendo lezione. Una scena incredibile perché c'è stata una bomba d'acqua con un vento fortissimo, proprio una tromba d'aria che ha fatto cadere il palo della luce di cemento che adesso hanno appena sostituito i tecnici dell'Enel, caduto il palo di cemento sopra i box dove c'erano dentro i cavalli, si è scoperchiato il tetto, il vento fortissimo, la tromba d'aria ha portato via tutto, sopra un'altra casetta di legno degli attrezzi che abbiamo dietro di là e poi giù in strada. È stata una tragedia veramente. La prima preoccupazione è stata quella di portare in salvo i cavalli spaventati. Sotto un diluvio abbiamo dovuto i cavalli spaventati portarli in altri box che abbiamo dall'altra parte del maneggio ma è stato veramente un brutto momento. I cavalli stanno bene, per fortuna nessuno si è fatto male, i cavalli stanno bene, le persone anche non ci sono stati feriti, solo tanti danni. Si lavora per riportare la situazione alla normalità qui come in altre zone del comune. Stiamo ancora finendo di contare i danni della settimana precedente che ieri ci è capitata questa tromba d'aria che ha messo veramente in difficoltà nuovamente un territorio che comunque è già stato colpito pesantemente con scoperchiamenti di case, anche delle fabbriche, alcune aziende ancora. La situazione di ieri ha peggiorato una situazione che era già critica perché sono andate in difficoltà ancora di più delle abitazioni private così come appunto anche delle aziende perché già avevano coperto un po' alla meglio i tetti. Con il forte vento di ieri ha riscoperchiato e quindi tutto da rifare, ho visto veramente gente in difficoltà. Nel frattempo si contano i danni che si aggiungono a quelli della grandinata di una settimana fa. Le stesse imprese edili faticano a far fronte al carico di richieste e di interventi in case e capannoni. Noi fra l'altro con la grandine di lunedì 24 siamo full, non sappiamo da che parte prendere, cerchiamo di fare anche l'impossibile. Ci sono tetti completamente distrutti dalla grandine? Distrutti, distrutti, i tego, le cope, distrutti. Dopo la fortuna qual è? Chi ha la guaina sotto è salvo, chi non ce l'ha piange, sta piangendo. Un territorio questo che all'improvviso in pochi giorni si è trovato vulnerabile ed esposto alla violenza della natura che oggi trema appena il cielo si fa scuro. Siccome qui eravamo convinti di vivere in un paradiso protetto dalle colline e adesso le colline ci hanno buttato giù questo inferno, c'è un po' di timore e non sappiamo più cosa aspettarci. Non era mai successa qui una cosa del genere. Eravamo abituati a vederle in tv che succedevano da altre parti. A Faradiso Ligo il COC rimane attivo anche alla luce delle previsioni per le prossime ore. e già nel pomeriggio di oggi si sono registrati nuovi acquazzoni tra Conegliano e Vittorio Veneto. Il nubifragio del pomeriggio ha ingrossato la cascata del Molinetto della Croda, tornato a far paura a nove anni dalla tragedia che costò la vita a quattro persone durante la festa degli uomini.